ah che belli i pranzi e le cene di famiglia di una volta dove i piatti della nonna trasmettevano bontà amore e tradizione e nei supermercati doc e fami la superstore trovi tantissime eccellenze artigianali italiane fedeli alla tradizione la pasta fresca centoni di mottola buona come la pasta fatta in casa con materie prime attentamente selezionate come il grano biondo e genuino cresciuto al sole dei campi pugliesi nei supermercati doc e fami la superstore trovi una vastissima linea di prodotti proteici come le barrette milk pro snack e per colazioni o merende proteiche i pancake pro app per un'alimentazione a tutto bag trovi l'alta qualità di prodotti al 100% vegetali tante idee per una dieta proteica o vegana golosa ed anche senza glutine e se poi passi dal bistro tutto diventa ancora più semplice tante pietanze gustosissime e pronte da portar via prenotala ed organizza i tuoi eventi privati a casa e senza stress supermercati doc e fami la superstore rendiamo accessibile la spesa di grande qualità